Allora, buongiorno a tutti, io sono ricercatrice al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo e tra le varie tematiche di cui mi occupo ci sono i sistemi in rete, quindi Internet, l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale ed in particolare l'intelligenza artificiale applicata alla gestione degli edifici. Quindi oggi vi racconterò un po' quello che è lo stato, non solo delle mie ricerche, ma in generale lo stato dell'arte a livello internazionale. Può sembrare che l'applicazione agli edifici dell'intelligenza artificiale sia, dopo tutto, una cosa abbastanza marginale, quindi che non ha una reale motivazione, una reale utilità. In realtà è uno dei campi che soprattutto in un'ottica green, quindi di sviluppo della nostra società, con un'impronta ambientale sempre meno pesante, può dare un contributo molto importante. Questo perché? Perché gli edifici odierni rappresentano una fetta grandissima dei consumi energetici a livello mondiale e dell'emissione di CO2 a livello mondiale. E nei continenti vecchi, cioè da noi in Europa, in cui abbiamo edifici molto antichi, che non sono certamente stati progettati in chiave di risparmio energetico, il consumo, la dispersione di energia è ancora più importante. L'Unione Europea si occupa di questo problema da diversi anni, hanno fatto proprio degli studi sull'impronta energetica degli edifici e si è visto che quelli antichi, ma antichi non stiamo parlando di edifici dell'Ottocento, stiamo parlando anche di edifici progettati negli anni 40, negli anni 50, quindi senza i materiali avanzati che si possono utilizzare oggi, hanno un consumo che è quasi 10 volte superiore, 6-8 volte a seconda della vetustità dell'edificio, superiore agli edifici più moderni. Quindi in uno scenario del genere l'utilizzo dell'informatica, dell'ICT e dell'intelligenza artificiale può portare a un grandissimo beneficio. Tra tutti gli edifici, quelli residenziali, quindi le nostre case, sono tra quelli che consumano di più, in proporzione. Potrebbe sembrare che il settore industriale, è vero, ha una fetta considerevole di consumi, ma buona parte di questi consumi sono necessari al processo produttivo e non evitabili. Invece nelle nostre case, che se vediamo qua la quota di consumo energetico per gli edifici residenziali è comunque minore, c'è tantissimo margine di risparmio. Una parte dei consumi è dovuta a un cattivo utilizzo del sistema di riscaldamento, a un cattivo utilizzo del sistema di illuminazione, c'è tantissimo margine su cui si può lavorare. Stime a ribasso che abbiamo fatto negli ultimi anni ci dimostrano che già applicando dei sistemi anche molto semplici di intelligenza artificiale si può arrivare facilmente ad avere già un risparmio di almeno il 10%, che poi oltre ad avere un impatto ambientale positivo ha anche un risparmio economico per le tasche poi degli utenti che abitano questi edifici. Quindi quello di cui parlerò oggi, quello che vi racconterò è una visione in parte già realizzata ma in parte ancora molto futuristica di ambienti che sono arricchiti con tantissimi dispositivi pervasivi e in cui l'intelligenza artificiale ha il compito di soddisfare le nostre esigenze. Il maggiordomo intelligente che anticipa i nostri bisogni, che regola l'ambiente in base alle nostre necessità e che ci fa risparmiare, quindi che consente anche di abbattere i consumi energetici. Perché serve l'intelligenza artificiale in questo caso? Perché non lo possiamo fare con la classica domotica. Allora questo dominio applicativo è in realtà semplice da immaginare ma molto difficile da gestire perché ci sono tantissimi obiettivi contrastanti. Ci sono già il primo obiettivo contrastante che possiamo immaginare tutti è quello tra l'ottimizzazione dei consumi energetici. Il massimo sarebbe abbatterli, azzerare il consumo energetico e la massimizzazione della soddisfazione degli utenti. Allora già possiamo immaginarci i due estremi di questo spettro. La soluzione di gestione ambientale che ci consente di minimizzare il consumo energetico è spegnere tutto. Spegni il riscaldamento d'inverno, spegni le luci quando ti servono, consumo abbattuto. È chiaro che l'utente è altamente insoddisfatto, non gradirebbe affatto una soluzione del genere. Qual è la soluzione che massimizza la soddisfazione dell'utente? Ignorare il consumo e tenere sempre gli attuatori, le luci, i riscaldamenti nelle condizioni ideali. Quindi a te piace avere un tot grado di illuminazione? Lo terrò sempre fisso anche quando tu esci, in modo che quando torni a casa trovi già l'illuminazione come ti piace. È intuitivo, capiamo subito che è una scelta inefficiente. Quindi l'intelligenza artificiale in questo contesto deve proprio andare a trovare il bilanciamento tra obiettivi fortemente contrastanti e questo in termini algoritmici non è semplice. Un altro tipo di trade-off, quindi di compromesso che bisogna trovare, lo sperimentiamo già in fase di progettazione. Quindi non già quando il sistema lavora, ma quando lo immaginiamo. Perché un sistema di intelligenza artificiale lavora tanto meglio quanto più sono dettagliate le informazioni che arrivano. Abbiamo visto nell'intervento precedente molti degli algoritmi di intelligenza artificiale che si usano oggi esistono da decenni. Funzionano bene oggi per l'enorme mole di dati con cui li riusciamo ad addestrare. Più dati forniti all'intelligenza artificiale, più essa apprende e meglio fornisce una risposta ai quesiti che le si pongono. Ma se siamo a casa, a casa mia, per fornire questi dati, dobbiamo installare tanti dispositivi e questi dispositivi potrebbero darmi fastidio, potrebbero avere un grado di intrusività, la chiamiamo, che raggiunge il limite tollerabile per l'utente, per cui l'utente potrebbe non essere più disposto ad utilizzare quel sistema. Quindi già in fase di progettazione, se stiamo pensando a un sistema intelligente dentro un edificio domestico, poi a maggior ragione, ci scontriamo con la scelta di un compromesso. Scelgo deliberatamente di fornirti meno informazioni per dare meno fastidio all'utente e a secondo di quello che dovete fare bisogna trovare il compromesso migliore. Tutta questa visione futuristica degli ambienti intelligenti è resa possibile soltanto grazie all'enorme crescita che ha fatto la diffusione dei sistemi di elaborazione delle informazioni dagli albori dell'informatica ad oggi. Abbiamo visto l'intelligenza artificiale e l'informatica hanno origini che per noi sembrano antiche, diciamo, siamo a metà del novecento. Ma all'inizio i computer, i calcolatori avevano un paradigma che prevedeva che tanti utenti utilizzassero un unico megacalcolatore. Era l'epoca dei mainframe, avevamo supercalcolatori spesso disposti in centri di calcolo aziendali o delle grandi università a cui accedevano ad un unico calcolatore una moltitudine di utenti. Poi c'è stata la rivoluzione dei personal computer. Abbiamo avuto computer personali, ognuno, ogni utente poteva avere un dispositivo di elaborazione. Già con gli anni duemila il paradigma è shiftato totalmente. Siamo passati ad utenti che hanno più dispositivi personali. Abbiamo assistito a questa rivoluzione quando hanno cominciato ad apparire in commercio tablet, portatili, smartphone. Oggi questa tendenza si è molto esasperata. Non abbiamo più dispositivi, abbiamo tantissimi dispositivi. Si stima che nel 2020, quindi tra poco, il numero di dispositivi connessi ad internet supererà di gran lunga il numero di persone al mondo. Ci attestiamo ad una media di almeno sette dispositivi connessi ad internet per persona. Questa è una statistica fatta su scala mondiale, però voi pensate che in realtà c'è una grande disparità tra continenti. Quindi se facciamo la media, in realtà dobbiamo togliere da questa media tutti quei paesi, tutte quelle zone del mondo in cui non c'è questa grande disponibilità di dispositivi. Quindi capiamo che nel nord Europa, negli Stati Uniti, nel nord America in realtà la media è molto superiore. Quello a cui stiamo assistendo è quindi uno scenario in cui la tecnologia ci circonda, praticamente è dovunque e sono nella maggior parte dei casi i dispositivi appunto in grado di collegarsi alla rete internet. Questo paradigma ha un nome preciso e si chiama internet of things, cioè l'internet delle cose, uno scenario in cui anche gli oggetti di uso comune sono in grado di collegarsi alla rete internet, sono in grado di inviare dati, di ricevere dati e di collaborare attivamente a sistemi di intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale non è più soltanto Deep Blue, un mega super calcolatore che segue un algoritmo ben preciso progettato per giocare gli scacchi. Non è solo questo, l'intelligenza artificiale è una funzionalità emergente in sistemi composti da molteplici parti. Quindi abbiamo sistemi anche piccolissimi, gli orologi, gli smartwatch, la lavatrice che parla con internet, l'assistente domestico, la televisione connessa a internet, tantissimi dispositivi che possono essere sfruttati. Quindi in questo scenario abbiamo la disciplina classica storica dell'intelligenza artificiale che si unisce con una esplosione tecnologica di sensori pervasivi, di dispositivi pervasivi. Da questa commistione nasce una disciplina di ricerca, che poi è quella di cui io mi occupo, che si chiama Ambient Intelligence, cioè intelligenza ambientale. L'obiettivo dell'intelligenza ambientale è sfruttare questa rete di sistemi pervasivi, che circondano l'utente nella maniera, si spera, il più invisibile possibile, per creare proprio un ambiente reattivo che risponde all'esigenza degli utenti, ne anticipa i bisogni. Per farlo però deve fare alcune cose che potrebbero non essere intuitive, potremmo non aspettarci. Una delle cose tipiche che deve fare un sistema di gestione intelligente degli edifici è apprendere, apprendere le nostre abitudini, apprendere le nostre preferenze e quindi anticipare i nostri bisogni, prevedere quello che faremo nel futuro per rendere l'ambiente già adatto a quelle che sono proprio le caratteristiche che noi desideriamo. Immaginate la mamma che vi fa trovare già la casa con la temperatura che piace a voi, oppure che la rinfresca perché sa che dovete fare gli esercizi di ginnastica e quindi volete un po' il condizionatore più alto. Questo ci aspettiamo dall'ambiente intelligence, un sistema di supporto alla vita di tutti i giorni che controlli attivamente l'utente per anticipare le nostre esigenze. Quindi casa smart, la casa smart è in grado da sola con tutta questa rete di dispositivi che avremo nascosto nell'ambiente di monitorare l'ambiente, quindi capire se c'è caldo, se c'è freddo, com'è la temperatura, com'è la luminosità, di regolare la luminosità, di regolare il sistema di riscaldamento, ventilazione facendo sempre occhio ai consumi. Ma questi sono alcuni esempi perché poi un sistema di ambient intelligence può essere collegato con i sistemi di entertainment, quindi mettere la musica di sottofondo che più è adatta all'attività che stiamo svolgendo. Poi se riusciamo a capire come progettare questi sistemi si aprono porte futuristiche molto ricche, d'accordo? Allora, tutto questo è perfettamente coerente con i classici obiettivi dell'intelligenza artificiale. Poco fa abbiamo visto una bellissima definizione dell'intelligenza artificiale, proprio coniata da uno dei fondatori di questa disciplina a livello nazionale, ma se vogliamo renderla anche più semplice per capirla meglio, l'intelligenza artificiale non è niente di trascendentale, è una disciplina che ha il compito di progettare sistemi, hardware, software, non è importante, automatici in generale, che riescono ad affrontare un problema complesso in una maniera che a noi sembra intelligente. Cioè quando vediamo il modo con cui hai fatto quel compito, diciamo ah, ci picchia, è intelligente. Tutto questo è l'intelligenza artificiale, darci l'apparenza di avere svolto il compito in una maniera furba. Gli agenti intelligenti, i sistemi intelligenti, quale che sia lo scopo per cui sono stati progettati, devono svolgere sempre un insieme di funzionalità. Devono essere in grado di percepire il mondo, quindi avere in qualche modo una fonte di informazioni, ragionare sui dati che hanno acquisito, apprendere dai dati e dall'esperienza che questi sistemi fanno nel mondo, nel caso in cui si trovino in ambienti con altri agenti o con gli utenti, devono essere in grado di comunicare con loro e agire infine per modificare il mondo. Una figura che può sembrare molto buffa, ma è molto esplicativa di questo modello, è quella che vedete in questa slide. Questa è la classica figura che si trova in tutti i libri di intelligenza artificiale, proprio i primi capitoli, le prime pagine. Cos'è un agente intelligente? È questo buffo robot che ha un occhio, lo vedete qua, che altro non è che un sensore con cui la gente è in grado di percepire il mondo, avrà a bordo un computer, un sistema di ragionamento, può essere una scheda Arduino, può essere un supercalcolatore, non è importante. Qualcosa è in grado di fare elaborazione, di eseguire un programma e quindi di ragionare sui dati che ha acquisito e deve avere delle mani e dei piedi, cioè qualcosa degli attuatori, li chiamiamo, con cui agire nel mondo. Il robot che si sposta è un sistema intelligente, la casa smart è un sistema intelligente. Però in questo loop, se nel nostro ambiente si trova ad essere popolato da utenti, non possiamo mettere un quarto passaggio fondamentale che è l'interazione. Nessuno di noi accetterebbe un sistema di gestione intelligente degli edifici con cui non poter interagire. È inaccettabile per un utente, quindi sicuramente la parte di interazione è fondamentale. Ora, una delle sfide principali che dobbiamo affrontare adesso è capire come trasportare questo modello di sistema intelligente in una casa. Quali sono i sensori, quali sono gli attuatori. La componente sensoriale ed attuativa, quindi gli occhi e le mani del sistema intelligente sono la sua componente fisica, la sua componente reale, ciò che rende il nostro sistema parte del mondo reale. E qua vedete alcuni esempi, le webcam, sensori di temperatura, il condizionatore, il sistema di illuminazione. Questi sono tutti dispositivi tipicamente dell'Internet of Things, quindi in grado di ricevere comandi e di trasmettere dati tramite la rete Internet. E questi dispositivi rappresentano il corpo del nostro sistema. Questa cosa non è secondaria per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, è primaria. Perché le funzionalità intelligenti che voi potete fare dipendono dal corpo che date al sistema. Immaginate di progettare un robot. Se non gli fate le ruote e non gli fate le gambe, il robot potrà camminare? No. Se non gli date un mezzo per spostarsi non potrà camminare. Alla stessa maniera, se la vostra casa intelligente non ha un sensore di temperatura e non ha un dispositivo per controllare la temperatura, non potrete chiedergli di applicare una strategia intelligente di controllo della temperatura. Quindi nelle case intelligenti le scelte che fate all'inizio su quali dispositivi installare vi condizioneranno in maniera fortissima su quali funzionalità intelligenti potrete realizzare. Se non fate gli occhi e le mani necessari ad una funzionalità, quella funzionalità vi è preclusa. Non potete fare tutti gli algoritmi che volete, ma se non gli mettete gli strumenti per controllare il mondo non avete nessuna chance. La parte algoritmica trova ospitalità nella componente di ragionamento. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono molto diversi a secondo del tipo di ragionamento che devono fare. In un edificio intelligente quali sono questi ragionamenti? Tipicamente l'abbiamo visto apprendere le abitudini degli utenti, pianificare la sequenza di azioni da fare, ma qualsiasi cosa voi decidiate di fare dovete sempre tenere presente i principi fondamentali dell'ambiente intelligence, cioè intanto bisogna essere reattivi, quindi se cambiano le condizioni ambientali bisogna fornire una risposta all'utente in tempi rapidi. Immaginatevi un sistema che deve accendere la luce quando voi entrate, voi entrate adesso, il sistema ci mette 10 minuti a capire che voi siete entrati e vi accende la luce dopo 10 minuti. Perde totalmente qualsiasi utilità, quindi la risposta deve essere rapidissima, altrimenti l'utente si indispone e ha ragione. I sistemi di intelligenza artificiale devono essere adattivi, quindi non deve essere un algoritmo statico che funziona sempre alla stessa maniera, ma deve essere in grado di cambiare il proprio comportamento a secondo delle condizioni, a secondo del giorno della settimana, a secondo dell'orario del giorno, a secondo della stagione dell'anno. Immaginatevi un sistema di termostati intelligenti lavorerà in maniera differente d'estate d'inverno. Il sistema di illuminazione lavora in maniera differente la mattina e la sera. Ma il sistema non è soltanto una questione di orario rigida, è anche condizioni mutevoli. Se all'improvviso il cielo si rabbuia e spuntano le nuvole, potrebbe essere necessario accendere alla luce. Quindi non siamo nell'ambito della domotica, regole rigide che fanno comportare la casa sempre nella stessa maniera, ma sistemi in grado di cambiare da soli e fondamentalmente deve essere vantaggioso per l'utente. Questo non lo dobbiamo dimenticare mai, perché qualsiasi sistema, se dà fastidio all'utente o non gli porta vantaggio, smette di essere utilizzato. E in ambito domestico questa cosa è vera molto più che in altri ambiti. Non dimentichiamo l'importanza della fase di interazione. L'utente medio, io la prima, non accetterebbe mai un sistema domestico con cui non può interagire. L'utente vuole sempre poter controllare manualmente la sua casa. Il sistema intelligente ha deciso di mettere la temperatura a 24 gradi. Se io la voglio a 23, devo poterla cambiare. Questa è una cosa che normalmente non è prevista nei sistemi di intelligenza artificiale classici. Il robot lavora per i fatti suoi, Deep Blue muove gli scacchi per i fatti suoi, l'app di invecchiamento invecchia per i fatti suoi. Quale interazione con l'utente non può essere trascurata? Ha sempre l'ultima parola. Quindi l'utente può anche dirmi che la strategia che ho messo in atto io, sistema intelligente, non va bene. Tu hai messo la temperatura a questo valore, ma io sento freddo. Quindi darmi dei feedback che poi possono essere utilizzati per migliorare le strategie. Una cosa importante è cercare di apprendere. Se tu mi contraddici vuol dire che ho sbagliato. Quindi apprenderò meglio come comportarmi in futuro. Ora, da questa discussione preliminare dovrebbe essere chiaro ormai che questa disciplina, l'ambient intelligence, non è un'esclusiva appannaggio dell'intelligenza artificiale. Sicuramente l'intelligenza artificiale è la regina in questo campo. Senza gli algoritmi di intelligenza artificiale non riusciremo a fare niente. Ma hanno un ruolo fondamentale, ad esempio, tutte le discipline legate allo sviluppo di sensori attuatori. Quindi proprio alla componente fisica embedded di progettazione dei sistemi di Internet of Things. Hanno una componente fondamentale tutti i protocolli di rete. Quindi tutta la parte di networking che ci spiega come comunicano questi sistemi non può essere trascurata. L'interazione uomo-macchina tramite interfacce smart, tramite touchscreen, tramite sensori vocali non può essere trascurata. Quindi è dal connubio e dalla sinergia di tutte queste discipline che nasce l'ambiente intelligence. quindi l'approccio è multidisciplinare, assolutamente. Questa è una figurina che mi piace tantissimo. Abbiamo proprio l'utente al centro di una stanza che è arricchita di sensori e attuatori immersi nell'ambiente, su cui aleggia questo cervello semi-trasparente dell'intelligenza ambientale. Quindi il sistema intelligente sfrutta tutte le informazioni che provengono dai dispositivi per capire cosa, com'è l'ambiente adesso, cosa sta facendo l'utente adesso, cosa vorrebbe l'utente adesso. Quindi io devo apprendere comportamenti, abitudini, preferenze e devo prevedere cosa succederà tra un po'. Questa è una delle architetture classiche che rappresentano in maniera un po' strutturata la complessità di un sistema di ambient intelligence. Non potete pensare di fare un singolo programma, una singola app di ambient intelligence. Potete farlo per la domotica, potete fare una singola app di controllo del condizionatore, ma se vogliamo raggiungere questa visione di sistemi intelligenti che ci capiscono e ci circondano, bisogna avere un approccio un po' più strutturato. A livello sottostante dell'architettura troviamo tutta la parte fisica, sensori e attuatori che interagiscono col mondo. A livello centrale, quindi nel cuore, troviamo tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale e poi a parlare con gli utenti tutte le interfacce smart. Cosa vogliamo mettere a casa? Quali sensori vogliamo installare? Io chiaramente si capisce, sono un'appassionata, quindi ogni volta che trovo un sensore carino da installare subito, assolutamente. E non è affatto facile al momento, perché ora vediamo, la tecnologia non ci sta dando una grandissima mano di aiuto. Allora, intanto abbiamo detto, a secondo delle cose che installate, fisiche, poi potrete fare funzionalità intelligenti. Quindi, volete installare dei sensori che monitorano il consumo energetico? Ottimo, vi si abiliteranno tutte quelle funzionalità intelligenti per fare risparmio energetico. Ma se voi non lo monitorate il consumo energetico, tutte le strategie di risparmio energetico, scordatevele. Non saprete mai quanto costa la strategia che state facendo adesso, in termini di consumo. Quindi, se monitorate il consumo, potrete ottimizzare il consumo. I sensori classici da cui non possiamo prescindere sono quelli ambientali. Temperatura, umidità, suono, luminosità. Se non mettete questi, non potrete mai conoscere lo stato ambientale. Quindi, questa è proprio la base che dobbiamo prevedere nel nostro edificio intelligente. Una cosa che è cruciale è monitorare il contesto. Quindi, capire cosa sta succedendo adesso. E la parte principale che influenza il contesto sono gli utenti. Quindi, tra i sensori più importanti per fare un sistema furbo di intelligenza artificiale, sono i sensori che monitorano la presenza degli utenti e le azioni che fanno gli utenti. Quindi, la presenza degli utenti ci consentirà di dire l'utente si trova in questa stanza, l'utente è rientrato a casa e questo ci fa avere il comportamento adattivo. Se non capiamo cosa sta facendo l'utente, non possiamo adattarci al contesto corrente. Ma è molto importante monitorare le azioni che fa l'utente. Quindi, capire come l'utente da solo si regolerebbe l'ambiente. Capire come regolerebbe il condizionatore, come regolerebbe la luce. Da questo possiamo apprendere. Questa è la componente principale se vogliamo fare un algoritmo, un sistema intelligente in grado di apprendere da solo. Qualche anno fa abbiamo fatto un po' uno studio per capire quali dispositivi ci vengono messi a disposizione e che vantaggi hanno ognuno di questi dispositivi. Non c'è la soluzione perfetta. Partiamo da lì. Non esiste un sensore perfetto che costi poco, che mi rilevi in maniera perfetta, la presenza dell'utente. Esistono sensori molto costosi e molto precisi, sensori molto poco precisi e più economici. Per esempio, le videocamere. Le videocamere hanno una precisione variabile a seconda della qualità, ma sicuramente forniscono un'informazione molto rilevante sulla presenza dell'utente. Guardiamo il video e con dei banali algoritmi di visione artificiale si capisce se c'è l'utente oppure no. Qual è lo svantaggio principale? L'intrusività, che è molto elevata. L'utente è molto a disagio ad avere per casa le videocamere. Ma in alcuni domini, in alcuni tipi di edifici, per legge non sono proprio possibili. In un edificio lavorativo non possiamo osservare con le videocamere quello che stanno facendo i lavoratori, perché violiamo i loro diritti. Quindi una videocamera, che è uno strumento non troppo costoso, alla fine abbastanza medio, una webcam costa poco, ha come svantaggio principale di essere intrusiva, invadente. Non la vogliamo, ci sta registrando, ci stanno osservando. Dove va questo video? la paranoia la conosco, perché quando ho montato la webcam a casa ho visto le reazioni per esempio dei miei genitori. Sta registrando? Dove va il video? Chi lo vede? L'utente medio ha questa reazione. Quindi attenzione. Non è nemmeno immotivata tra l'altro, anzi più che motivata, perché ci sono problemi di sicurezza informatica che rendono tutti questi dispositivi molto vulnerabili, quindi attenzione. Sensori molto banali possono essere sensori per esempio di movimento. Avete presente i sensori infrarossi, quelli che servono per i sistemi di sorveglianza, che ci danno un'informazione binaria, 0-1, quando qualcuno passa davanti il sensore. Sono economici, per nulla invadenti, nessuno si infastidisce per un sensore infrarossi, ma danno un'informazione che è solo parzialmente correlata alla presenza degli utenti. Ci devo ragionare su un bel po' per capire che era l'utente e non era il gatto. Peggio ancora in un ambiente multiutente, come faccio a distinguere tra la mamma e la nonna? È particolarmente complicato. Sensori sulle porte che mi dicono se la porta è aperta e chiusa, ci sono insomma tutta una serie di dispositivi. Allora, l'approccio in cui l'intelligenza artificiale ci può dare un grande aiuto è quella di fare algoritmi di fusione delle informazioni, quindi tramite approcci classici, tipo le reti bayesiane, ora non stiamo a scendere nel dettaglio, anche le reti neurali, è possibile prendere grandi insiemi di dispositivi eterogenei, quindi di natura differente, e usarli per dare in passo questi dati ad algoritmi di intelligenza artificiale che capiscono effettivamente se l'utente è presente oppure no. Discussione classica è quella in cui riusciamo a capire che l'intelligenza artificiale in questo dominio è lo strumento che ci consente di passare da un'enorme mole di dati imprecisi, incompleti, a la vera e propria conoscenza, perché grazie a questi algoritmi di fusione delle informazioni si passa dall'estrazione di informazioni a partire dai dati e poi alla vera comprensione del contesto. Una sfida che riguarda voi, riguarda noi e riguarda tutti ed è in tema con gli scopi di questa associazione è legata proprio a una delle problematiche che ci affligge, cioè come faccio io, semplice programmatore, a realizzare un piccolo sistemino di intelligenza artificiale che mette in comunicazione tutta questa enorme mole di sistemi pervasivi. Bel problema. È un bel problema perché le tecnologie sono eterogenee, di natura molto diversa. Spesso usano protocolli che non sono standard, non sono pubblici, non sono definiti da organismi internazionali, non sono come il protocollo di posta elettronica che è quello in tutto il mondo. Ogni azienda si fa il suo, proprietario. E come funziona? E chi lo sa? E molto spesso le app, le applicazioni che interagiscono con questi dispositivi non solo non sono open source, ma non mettono neppure a disposizione delle API, cioè delle interfacce di programmazione con cui interagire. Quindi vi faccio l'esempio, giocavo l'altro giorno con lo smart thermostat a casa, ho installato il dispositivo che controlla la caldaia, accende il thermostat, io vorrei controllarlo da locale, quindi vorrei farmi il mio sistema di intelligenza artificiale che localmente ragiona e invia un comando. Non si può fare perché il sistema prevede che questo specifico dispositivo, non vale per tutti chiaramente, dipende dalle soluzioni, invii i dati ad un server cloud che è controllabile dall'utente tramite un'app. Quindi se io voglio interagire, devo interagire con un'app, devo fare un accordo con l'azienda e interagire con la loro app, lato cloud. Quindi c'è uno schema che comunque è molto rigido. Ma la cosa terribile è che ognuno adotta il suo. Ogni azienda sceglie, c'è un tentativo di standardizzazione, ci sono iniziative anche a livello europeo. La comunità europea ha investito tantissimo per la creazione di quella parte che manca. Questa è l'architettura che io vorrei, che noi vorremmo. Manca una parte comune, un middleware, un livello comune su cui poi gli algoritmi di intelligenza artificiale si possono innestare. Tanto sforzo è stato fatto, però i middleware esistenti adesso sono pesantucci e le aziende che poi mettono in commercio i dispositivi non li adottano. Quindi ci tagliano le gambe a priori. Qui sulla creazione di middleware c'è tanta ricerca, anche da parte delle università, c'è una bella iniziativa a Messina per fare un middleware delle smart cities, c'è tanto che si sta cercando di fare, ma c'è ancora un gap tra mondo produttivo che realizza i dispositivi e mondo della ricerca, che vorrebbe poi mettere in atto queste soluzioni. Vado un po' avanti velocemente per dirvi brevemente due cose. Tra le tante funzionalità intelligenti che abbiamo visto, abbiamo detto che le più interessanti sono proprio quelle riguardo la comprensione del comportamento degli utenti e la predizione. Può capitare che abbiate sentito alcuni di questi algoritmi di intelligenza artificiale, i sistemi a regole sono quelli più antichi, se succede questo a questo orario quindi l'utente è tornato. Sistemi più avanzati, le reti neurali, le reti bayesiane, i modelli di Markov, anche modelli che cercano di apprendere i comportamenti statistici degli utenti. Quanto è probabile che ad un certo orario l'utente ritorni, se ho rilevato il sensore di movimento in salotto. Quindi sono algoritmi che sebbene addestrati riescono a fondere dati sensoriali, conoscenza del passato e conoscenza delle abitudini degli utenti. Qual è il problema? Vado avanti alle sfide. Il problema è che la maggior parte di questi algoritmi per essere addestrati richiedono tantissimi dati. La sfida odierna non è soltanto quella legata alla disponibilità del software libero. Tutti questi algoritmi sono ben noti, dicevamo, da decenni. Implementarli non è difficile, ci sono librerie già pronte, open source, assolutamente a vostra disposizione. Il problema è che se non li addestrate questi algoritmi non valgono niente, non vi danno nessuna risposta e per addestrarli vi servono i dati e i dati non ci sono. Perché chi ce li ha se li tiene stretti, perché dai dati si ottiene la conoscenza. Quindi un sistema che vende assistenti domestici, ne abbiamo visti diversi, basa la propria forza commerciale sull'accuratezza delle risposte che ti dà quel sistema. E l'accuratezza dipende dai dati con cui è stato addestrato. Perché mai dovrebbe dare quei dati ad altri? Per fare in modo che altri raggiungano un'accuratezza superiore? Quindi è uno dei problemi con cui ci scontriamo anche noi quotidianamente. Come li addestro questi sistemi? Dove li prendo i dati? Il mondo della ricerca sta lavorando in questa direzione. Ci sono tantissime iniziative. Per esempio c'è una bellissima iniziativa alla Washington State University, gestita dalla professoressa Cook, che è uno dei pilastri dell'ambiente intelligent, che se le fatte le case, si è fatte le case intelligenti, ci ha messo i sensori, gli attuatori, gli utenti e le abita. Quindi abbiamo tutti gli elementi tecnologici per raggiungere questa visione del futuro, ma ci sono tantissime sfide che dobbiamo ancora cercare di risolvere. E con questo concludo.